L'Italia ha ricevuto la prima tranche dei fondi del Next Generation EU e sta ora decidendo come impiegarli al meglio. Da un lato 4,7 miliardi vanno al sostegno alle piccole e medie imprese all'occupazione giovanile e femminile, 6 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 1 miliardo per la scuola, 1,2 miliardi per la sanità. Sono esempi concreti dell'utilizzo che l'Italia fa dei fondi europei nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Next Generation EU. Si tratta di cifre molto importanti, se le mettiamo insieme fanno quella che una volta erano le vecchie finanziarie, che ci fanno capire quanto è rilevante, quanto è importante il sostegno che arriva all'Italia grazie al Next Generation EU, un'occasione straordinaria per il rilancio del Paese.